Ciao ragazzi, io sto ancora in viaggio per tornare a casa, sono distrutta, sto malissimo, non sto bene, non vedo l'ora di essere a casa, ma ne ho ancora un bel po'. No, non sto bene, per un cacchio, comunque almeno vi faccio vedere un attimo che qualche giorno che non mi vedete, però poi vi azzorno, vi tengo aggiornati. Un bacio, ciao ciao!